Esclusiva, Lucia in lacrime. Dopo l'uscita da Amici 23, la reazione shock e le rivelazioni inaspettate. Prima però di raccontarti come ha reagito Lucia dopo l'eliminazione da Amici 23, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il supporto. Lucia, l'eliminata dalla terza puntata del serale di Amici 23, ha lasciato il talento in lacrime dopo aver perso il ballottaggio finale contro Sofia. Nell'intervista esclusiva rilasciata subito dopo l'eliminazione, Lucia si apre sulle sue emozioni, dichiarando di essere fiera del suo percorso e determinata a continuare a danzare per raggiungere i suoi obiettivi. Scopri tutti i dettagli commoventi dietro la sua uscita dallo show più seguito d'Italia. Lucia ha espresso il suo rispetto per Sofia, riconoscendo il suo talento e affermando di non essere arrabbiata per essere uscita contro di lei. Le lacrime della ballerina riflettevano una gamma di emozioni, compresa la tristezza per aver lasciato il programma. Nonostante ciò, Lucia ha espresso gratitudine per l'opportunità di mostrare se stessa sul palco e di aver imparato tanto durante il suo percorso ad Amici. La ballerina ha sottolineato di aver portato le sue fragilità sul palco, mostrando autenticità e vulnerabilità nelle sue esibizioni. Essere parte di Amici le ha insegnato a confrontarsi in modo onesto con gli altri e ad apprezzare i rapporti umani che ha sviluppato durante il suo tempo nel programma. Guardando al futuro, Lucia ha espresso la sua determinazione nel perseguire ulteriori opportunità nella danza e nel condividere la sua passione con altri ballerini. Ha anche inviato un messaggio di incoraggiamento agli allievi rimasti nel programma, incoraggiandoli a dare il massimo e a non dare nulla per scontato. Il verdetto finale del ballottaggio Tra Lucia e Sofia è stato un momento toccante, con entrambe le ragazze che hanno dovuto affrontare la delusione dell'eliminazione. Tuttavia, Maria De Filippi ha sottolineato il percorso di crescita che gli allievi hanno vissuto ad Amici, riconoscendo il valore dell'esperienza anche oltre la competizione. In sintesi, l'uscita di Lucia da Amici 23 è stata un momento pieno di emozioni e riflessioni, evidenziando il suo coraggio e la sua determinazione nel perseguire i suoi sogni nonostante le sfide.